Ti ho lasciato un mezzo da raid per il lavoro. Monta, l'hai già avvistato? Sì, lo vedo. Bene, fallo a pezzi. Ciao a tutti, sono Sierra. Vi mostro una gara raid in The Crew. Dobbiamo tassonare il tipo di cui stanno seguendo e distruggeli in mezzo. Questo è il raid. Infatti stiamo venendo una po' Skyman tutta rialzata. Una specie di Dakar. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cazzo, è impestatissimo. Forse quando su piano ci riusciamo, dai. Dove cazzo è andato? Mi sono distrutto io, altro che lui. Merda! Dammi una pistola! Nooo! Nooo! E che cazzo! Riproviamo! Mi sono impestata sta cosa. Eliminalo alla svelta! Che fretta c'è! Colpa degli spirri! Meglio non farsi trovare dopo un lavoro del genere, capito? Lo stai perdendo! Ma che bravo segugio! Ma che bravo segugio! Farlo a pezzi! Primo mezzo da raid! Ehm... Così direi! Non aver paura di maltrattarlo! Fregatene dei nostri e del resto! Resisterà! Ora sistema quell'idiota! C'ero vicino, merda! No! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voglio vedere quante volte devo tamponarlo per ammazzarlo. Grazie a tutti. L'ho vinto dai sgancia. L'ho pulita tra l'altro. Sì, direi che ha recepito il messaggio. Bene, bene, ciao. Grazie a tutti per avermi seguito. Mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao ciao.